Quanto allo stile che pubblicamente in peculiari date consacrate è tenuto a esibire un governante vogliamo mettere due negri presidenti di repubbliche negre mendicanti più il figlio di un tamarro beduino presidente anche lui con pelacloni col grande grinfio barzio pelacloni il nostro super premier meneghino Che c'è? Che c'è? Che c'è? Vogliamo scherzare? Ci arriva anche un islamico a capire che tra il nostro e i predetti tra i tapiri esser non ci può nessuna gara Oggi 7 dicembre San Moratto Palamarino Vescovo intappati come pinguini pur essendo polli i due buri cannibali e rampollo gonzo del ras di Tripoli difatti sono corsi qui a Milano al vieto fine ed assistere ad un'opera alla scala alle più splendide napolitanamente cosiddette eccellenze nostre e omaggio vero son quei corsi rozzi a rendere Ovvio che a sta truzzata da selvaggi nessuno di noi brianzi intelligenti ha fatto giustamente caso minimo Napoli presenziare una pallosa serata cadaverica di musica è cosa adatta a Negri ed a Matusa deboli ormai di palle noi orgogliosi fatto abbiamo caso ad altro preso atto ria bianca il nostro grinfio non ha uguali nel mondo anche stasera puntualmente che tra i rappresentanti dei valori in cui ci rispecchiamo ancora di fatto è stato un'altra volta lui il migliore in quanto che la detta arciserata scaligera del cacchio sanamente mica ha fatto il negroide ma arcormente è andato in fracalcine a Vimercate grazie a tutti grazie a tutti